Oggi proseguiamo con la serie delle grandi imprese con una cosa un po' più recente delle ultime e in particolare parliamo della discesa per la prima volta con il relativo record di profondità a 10.916 metri con la discesa nella Fossa delle Marianne effettuata dal battiscafo Trieste. Ci vediamo poco. Un battiscafo costruito in Italia, progettato in Svizzera e in servizio presso la Marina Militare degli Stati Uniti ha prestato servizio tra il 58 e il 71. E' innanzitutto molto interessante questa cosa, più nazioni, più persone che partecipano a una grande impresa. Ed estremamente interessante per la partecipazione italiana che coinvolse cantieri e industrie molto importanti, anche così per dare lustro a quella che ahimè era la grande capacità costruttiva e industriale italiana. Fu progettato il Trieste, il battiscafo, da Auguste Piccard secondo una concezione molto innovativa per i tempi, ripeto stiamo parlando del 1958, con una sfera di zavorra solidale allo scafo, cioè non separata e di conseguenza legata alla nave appoggio, e concepita per ospitare due membri di equipaggio. Mi metto alcune foto. Mi metto alcune foto. La testa che appunto poi vedremo portava tre bandiere, quella svizzera, quella italiana e quella dell'esercito degli Stati Uniti, fu ideato dallo scienziato svizzero Auguste Piccard, che applicò gli studi dei suoi esperimenti con i palloni stratosferici. La costruzione del battiscafo venne eseguita in Italia, per l'appunto a Trieste, nel cantiere San Marco, appartenente ai cantiari riuniti dell'Adriatico, e a Castellamare di Stabia, per cui fu costruito in Italia, con, come si vede nelle foto precedenti, l'utilizzo di materiali che arrivavano dalla mitica aceria, mitica ai tempi, aceria di Terni. A Castellamare di Stabia, la sfera, che si vede negli schemi, fu saldata allo scafo di questa sorta di sottomarino. Nel 1958 il Trieste fu acquistato dalla Marina Americana per 250.000 dollari. Il battiscafo era costituito fondamentalmente da una camera riempita di benzina, perché la benzina, essendo più leggera dell'acqua, permetteva il galleggiamento del Trieste, e da una sfera a pressione costante, separata dal resto della struttura. Questa struttura era assolutamente innovativa come metodo di immersione, mentre precedentemente il metodo era quello di calare una sfera in acqua da una nave, tenendola sempre collegata a un cavo, concettualmente il sistema che si usava e si usa per i palombari. Il Trieste invece era in grado di muoversi liberamente, senza essere collegato in alcun modo alla nave durante la sua immersione. Era lungo, più di 15 metri, ma il grosso della sua grandezza è dovuto alla presenza di una serie di galleggianti riempiti appunto con 85 metri cubi di benzina e compensatori riempiti d'aria. Il che significa, anche dal punto di vista della movimentazione, al di là dello spessore enorme delle lastre, ma 85 metri cubi di benzina da movimentare poteva essere anche un discreto incubo, specialmente nel momento in cui si trovava fuori dall'acqua, insomma, al di là di tutto. L'equipaggio doveva stare appunto in questa sfera, quella che dicevamo prima, di 2,16 metri, che era attaccata al fondo della struttura, avete visto precedentemente le immagini. E per raggiungere questa occorreva attraversare un tunnel che passava attraverso il galleggiante. All'interno appunto di questa sera, in cui si trovava l'equipaggio, erano appunto ricavati un ambiente per permettere la sopravvivenza di queste due persone, e tra l'altro era assolutamente indipendente, se non per questi passaggi per raggiungere. L'aria entrava nella sfera da dei cilindri in pressione, e c'era un sistema di estrazione dell'anidride carbonica mediante delle scatole metalliche a calce sodata. Il tutto era evidentemente alimentato da batteria. La sfera fu costruita a Terni, dalla società delle Fucine e della Cerie di Terni, appunto, e fu realizzata in due pezzi, due semisfere, che poi sono state forgiate e temperate in olio, per resistere alla temperatura di 110 megapascal, cioè qualcosa come 1,25 tonnellate per centimetro quadro, calcolata nella parte inferiore. Le pareti della sfera erano costruite ed erano allo spessore di 12,7 centimetri. Questo, dal punto di vista progettuale, era stato realizzato per permettere di sopravvivere, di sopportare, delle pressioni ancora superiori. La sola sfera presava 13 tonnellate. Il galleggiante era necessario perché era impossibile pensare di progettare una sfera abbastanza grande per mantenere una pressione sopportabile per un uomo e con delle pressi secco e allo stesso tempo avere delle pareti abbastanza sottili da permetterne il galleggiamento. Fu scelta la benzina, appunto, come liquido per riempire i galleggianti, come dicevamo prima, perché è meno densa e mantiene soprattutto le sue caratteristiche di incomprimibilità anche a pressioni elevate. Lo scafo fu invece costruito nel cantiere navale San Marco dei cantiere reuniti dell'Adriatico di Trieste verso la fine del 52. Come abbiamo detto precedentemente, la ferra fu fessata allo scafo nel cantiere navale di Castellamare di Stabbia e in provincia di Napoli. La prima emissione avvenne nelle acque di Capri il 16 agosto del 53. Sono andati a fare il bagno a Capri, insomma un bel posto. La prima vera immersione avvenne il 30 settembre del 53 a 3.150 metri nella fossa del Tirreno a largo dell'isola di Ponza. L'unico contatto visivo con l'esterno era possibile mediante un blocco a forma di cono di plexiglass. Quindi plexiglass è andato alle più estreme profondità ed è andato sugli orologi sulla Luna. Per cui dicevamo, era questo oblo, chiamiamolo, era di plexiglass perché è l'unico materiale trasparente che può sopportare le pressioni così elevate. L'illuminazione esterna era realizzata con delle lampade a quarzo in grado di resistere a delle pressioni superiori alle mille atmosfere senza subire modificazioni, in minanese senza sciupà. 9 tonnellate di pellet in ferro fungevano da zavorra poiché le pressioni estreme non avrebbero permesso l'emissione di aria nell'eventuale zavorra. Non si poteva utilizzare il sistema dei sommergibili di sparare l'aria compressa ma bisognava mollare come fanno i palloni aerostatici la zavorra che veniva liberata tramite degli elettromagneti in modo da permettere al Trieste di risalire in caso di guasti all'impianto elettrico per cui diciamo era tenuta la zavorra con un circuito cosiddetto normalmente aperto in caso di problema all'impianto elettrico si disattivava e mollava la zavorra altra soluzione molto intelligente. Ci fermiamo un secondo, facciamo vedere alcune foto del Trieste. Grazie a tutti! Allora, presumibilmente quando ci fu la discesa nelle Fosse delle Marianne con i due operatori Jacques Piccard, il figlio di Auguste Piccard e Don Walsh che era un ufficiale della Marina Americana essendo la Rollers fin dagli anni 50 in contatto con Auguste Piccard presumibilmente, ma questo non è un dato storico importante i due portavano dei Rollers, quale modello non saprei. La cosa più interessante è che fu realizzato appositamente per l'impresa un Rolex sperimentale chiamato Deep Sea Special che fu fissato all'esterno del sommergibile perché non avrebbe avuto grandi meriti un orologio stando dentro la cupola ma non c'erano pressioni, era di fatto una situazione di condizioni ambientali normali. Il vetro dell'orologio presenta una forma che ricorda quella di una semisfera poi mettiamo le foto in modo da poter sopporsare la pressione colossale a quella profondità. Ora, appunto, aggiungiamo alcune foto specifiche dell'orologio. La rolex è adatto all'utilizzo quotidiano. La Rolex, che dal punto di vista del marketing è sempre stata molto in gamba evidentemente poi ha fatto seguire delle serie concettualmente dedicate come appunto il Deep Sea a questo tipo di applicazione fino ad arrivare a un orologio commemorativo appunto chiamato Picard. Mettiamo le foto anche di questi. Il 5 ottobre del 1959 il Trieste parte da San Diego verso l'isola di Guam per dare inizio al progetto Nekton una serie di immersione nelle profondissime fosse delle Marianne. Il 23 gennaio il Trieste raggiunge il punto più profondo della fosse delle Marianne con a bordo Jacques Picard, che è il figlio di Auguste, come dicevamo, e di Don Welsh, che è un ufficiale della US Navy. Questa fu la prima volta che un battiscafo con o senza equipaggio raggiunse quella profondità. I sistemi di bordo indicarono una profondità di 11.521 metri che successivamente fu portato con misurazioni più precise a 10.916. Nel 1995 si decise e si misurò che la profondità raggiunta era di 10.911 e nel 2009 una definitiva misura di 10.902. Se andiamo avanti così sono andati a fare l'immersione nella mia vasca da bagno. Per portare a termine la discesa ci vallero 5 ore. I due uomini con il battiscafo rimasero nel punto più profondo della crosta terrestre che è appunto il fondo della fosse delle Marianne per circa 20 minuti. Una volta raggiunta la profondità massima, Picard e Walsh riuscivano inaspettatamente a mettersi in contatto con la nave a proggio in superficie con un sistema sonar-idrofono che stavano sperimentando. I mersaggi per percorrere la distanza impiegavano 7 secondi, pensate. I due dell'equipaggio osservarono in fondo dell'oceano, sul fondo dell'oceano la presenza di sogliole o platesse e quindi sarà anche venuta fame che provavano l'esistenza di forme di vita anche a quei valori enormi di pressione. Dopo il Trieste i battiscafi che raggiunsero tale profondità nella fossa delle Marianne furono il Kaiko nel 1995, ma Scaffo poi si perse in un'altra occasione durante una missione e un po' di tragedia ce la dobbiamo mettere come nostra abitudine. Nel 2009 il Nereus senza equipaggio così come il Kaiko, per fortuna non ci morì nessuno e poi nel 2012 il terzo uomo, chiamiamolo così, a raggiungere questa profondità fu il regista James Cameron, quello di Titanic a seconda del fatto che uno abbia fatto meno inglese alle scuole medie, con un altro battiscafo. Nell'aprile, per dire come finisce la carriera del Trieste, Nell'aprile del 1963 il Trieste fu modificato per essere utilizzato nell'Atlantico. Nell'agosto dello stesso anno fu utilizzato per la ricerca di un sommergibile lo USS Trasher, quest'ultimo fu ritrovato nei pressi di New England a 2,56 km al di sotto della superficie. Dopo questa missione il Trieste fu smantellato e la sua sfera spressurizzata fu utilizzata nel battiscafo Trieste 2. La teniamo buona, è valida. I battiscafi di tipo Trieste furono definitivamente abbandonati nel 1983 per essere sostituiti dai sommergibili di tipo Alvin che sono più resistenti, più moderni, più utilizzabili, più manovrabili e più duratori. Però possono raggiungere solo la profondità massima di 6.000 metri. Ora la sfera pressurizzata originale del Trieste è visibile presso lo US Navy Museum di Washington. Questa è la storia di un'altra epica impresa che lo dimostra comunque l'impresa anche se da secondo di Cameron nel raggiungere il fondo della forza della Marianne dimostra che attualmente ci sono ancora evidentemente dei posti da scoprire, delle imprese da realizzare. Per gran parte nelle profondità marine e evidentemente nello spazio ma di questo abbiamo parlato nei filmati nei video che riguarda la conquista dello spazio e la missione sulla Luna. Spero che il video vi sia piaciuto eccetera 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 Mettete mi piace, fatelo vedere agli amici, costringeteli perché ho poche visualizzazioni e ci ho bisogno, ok? Un saluto a tutti!